Salve, mi chiamo Stefano Capitani, sono amministratore delegato di Comtec, rappresento l'azienda per questo importante progetto per restauro di minori, siamo stati coinvolti appunto dal nostro agente e nonché progettista Maurizio Montini che ci rappresenta per la zona, per la regione Umbria-Toscana per questo interessante progetto che abbiamo sposato immediatamente riconoscendo appunto l'importanza sociale di questo tipo di progetto. Comtec è azienda distributrice di prodotti audio-video, piuttosto video e controllo per tutto il mercato italiano e abbiamo identificato, il progettista ha identificato nella rosa dei prodotti Comtec e in particolare le telecamere, le matrici audio-video, video in particolare e il controllore ELMO e quindi abbiamo identificato quello che erano i prodotti che del nostro catalogo erano interessanti per procedere alla fornitura di questo materiale.